A colorare gli ultimi giorni dell'estate pesarese ci pensa la mezzanotte bianca dei bambini. In due giorni, sabato 3 e domenica 4 settembre, ricca di giochi e divertimenti per i più piccoli. Una dodicesima edizione in cui i bambini potranno passare dei momenti con i loro amici dei cartoni animati preferiti, dove saranno intrattenuti dagli spettacoli di Rainbow e Coccole Sonore, collaboratori creativi e artistici dalle 18 a mezzanotte. Abbiamo una serie di attività di laboratorio e gioco in Piazza del Popolo e in tutte le varie aree. E poi abbiamo dei main event nel palco centrale, sabato sera alle 21 ci sarà lo spettacolo Rainbow Kids Show, con tutte le property della grande casa produttrice Rainbow, ci saranno Wings, 44 Gatti, Pinocchio & Friends, Sam Rent-Hot, eccetera. E domenica sera invece, sempre alle 21, con Coccole Sonore, Greta, Whisky Ragnetto, si balla tutti insieme in allegria. Coccole Sonore fa parte di un network familiare digitale che copre tutte le famiglie italiane e quest'anno presentiamo, oltre ai soliti laboratori tradizionali di giochi per bambini, dei giochi autoprodotti da noi, nuovi, che poi troveranno probabilmente un'uscita nel grande commercio l'anno prossimo, che sono relativi alla serie televisiva di cui siamo produttori, che è Whisky & Sui Amici, che va in onda su Cartonito. Quindi quest'anno le famiglie troveranno nuovi giochi, i laboratori tradizionali e in più uno spettacolo nel giorno di domenica, dove ci saranno alcune parti tratte dai cartoni animati della televisione, rimesse chiaramente in spettacolo. Quindi ci sarà la nostra talent Greta, la mascotte Whisky Ragnetto che fanno i balletti, in più ci saranno una serie di scene che, diciamo, interattive con il mega wall che c'è dietro, intratterranno i bambini. Anche lì poi canzoni, sempre legate ai temi molto importanti dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, del giocare insieme, del passare del tempo insieme tra bambini. Ormai penso che siano tanti anni, la banca è da tanti anni che è a fianco di questa importante iniziativa. Coinvolge chiaramente tante famiglie del distretto pesareggio, non solo, perché poi raccoglie anche nelle prime periferie. Sicuramente è una cosa molto molto interessante.